La formazione è prevalentemente di Polizia Giudiziaria, avendo diretto le squadre mobili di Enna, Siracusa e Vibo Valencia. Il mio percorso professionale, anche in maniera un po' inaspettata, mi ha riportato a Catania, che è la mia città di origine. Col costore Gualtieri ci conosciamo da tanto tempo e mi ha subito prospettato la sua idea per quanto riguarda di investire sul commissariato di Librino e io chiaramente ho accolto con entusiasmo la sua proposta, quindi dovrò applicarmi anche in campi inesplorati per quanto mi riguarda, privilegiando aspetti sociali anche come quello che vi ha evidenziato il questore durante la conferenza degli orti sociali e della nostra presenza presso le scuole e insomma cercheremo veramente di tendere la mano al quartiere e chiaramente ci aspettiamo una risposta soddisfacente.